Presidente, personalità giuridica e bilancio dell'ente carnevalesca, quali sono le difficoltà? Per quanto riguarda il bilancio, ancora dobbiamo andare in assemblea per l'approvazione del 2021, stiamo aspettando perché stiamo facendo periziare le opere d'arte che abbiamo qui in carnevalesca, vecchi manifesti, quadri, proprio per metterli a patrimonio e vedere se così riusciamo a ritentare di prendere la personalità giuridica. Quindi il bilancio è in itinere, ma abbiamo fatto un incontro col commercialista, diciamo che è abbastanza in linea, per aver passato una terza guerra mondiale non desta preoccupazioni. Il problema della carnevalesca è sempre quello, è la cassa, cioè il cash, che devono essere chieste anticipazioni alle banche. Questo è il problema della carnevalesca, ma questo da ormai parecchi anni. Detto questo, ieri nell'incontro in commissione si è parlato soprattutto della possibilità di una fondazione, di una trasformazione dell'ente, come da tanto ci diciamo, da semplice associazione a fondazione, o una cosa simile, quindi più strutturata, in modo da avere in qualche modo un patrimonio che garantisca chi gestisce l'ente. Questo, insomma, sarebbe già un sollievo e un atto di presa di coscienza della città e del comune che, insomma, questa associazione, questa manifestazione hanno bisogno di professionalità e quindi di una struttura più solida. Anche perché ricordiamo che il Presidente, in questo caso lei, risponde con i propri beni personali. Quali sono i prossimi passi? Adesso io sto ovviamente pensando al Carnevale di giugno e di agosto, questa è la mia priorità. Certo, essendo a fine mandato, devo per forza essere cauta, anche se sono sicura che se ci sarò io prossimamente o qualcuno dopo di me, insomma, si prenderà onori e onori come ho fatto io. Però, ecco, ovviamente dovremmo stare un pochino più attenti. E detto questo, andiamo avanti. Comunque adesso pensiamo al Carnevale che è la priorità.